Provaci ancora prof 7 Provaci ancora prof 7, ultima puntata, Gaetano torna da Camilla . Anticipazioni Provaci ancora prof 7, ultima puntata del 19 ottobre . Ultimo imperdibile appuntamento con Provaci ancora prof 7. . Domani sera sarà trasmesso il finale di stagione della fiction, in otto puntate, con Veronica Pivetti, Enzo De Caro e Paolo Conticini. . Il primo time di Rai 1 si tingerà di giallo e di ironia anche giovedì alle 21.15. . Le vicende sentimentali complicate di Camilla Baudino, si intrecceranno a drammi familiari e omicidi inspiegabili. . L'istinto e il sesto senso della prof saranno come al solito la chiave vincente per arrivare a risolvere i delitti più complicati. . Nella puntata del 19 ottobre di Provaci ancora prof 7, Gaetano irromperà nella scuola in cui insegna Camilla. . Dopo aver lasciato l'appartamento che condivideva con la prof, a causa di una brutta discussione con Livia, il commissario comunicherà alla ex che il suo studente Vasco, scomparso nella settima puntata, è sospettato di omicidio. . . Come reagirà Camilla alla notizia? Ciro Azzarita infatti, il direttore di un noto hotel, verrà trovato morto. . L'uomo sarà legato proprio a Vasco e alla rapina nella gioielleria torinese che aveva portato il giovane a scontare tre anni di reclusione. . Provaci ancora prof 7, ottava puntata, arriva il lieto fine. . Le anticipazioni dell'ultima puntata di Provaci ancora prof 7 svelano che Vasco sarà ancora improbabile. . Il ragazzo non aveva mai svelato i nomi dei complici del furto nella gioielleria. . Nell'ottava puntata di Provaci ancora prof 7, un altro delitto segnerà la fiction di Rai 1. . Verrà infatti trovato privo di vita anche il portiere dell'hotel di Ciro Azzarita. . . L'uomo non avrà però nessun legame palese con Vasco Peroni. . 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